Cari amici, prima di iniziare volevo condividere con voi una bellissima notizia. La settimana scorsa abbiamo superato i 10.000 iscritti a questo canale. Un sentito grazie a voi, perché siete voi che fate grande questo canale. Rivolgiamo poi tutti insieme, voi e me, un ringraziamento a Maria Santissima alla cui protezione è affidato tutto questo apostolato. Grazie, grazie di cuore e sempre avanti. Il prossimo traguardo saranno i 20.000 iscritti. Mater divini grazie, ora pro novis. Cari amici, se siete sconvolti da tante cose che succedono nella nostra Chiesa, se la vostra fede a volte forse vacilla in mezzo a tutto questo caos, allora questo canale è fatto per voi. Vogliamo non solo informarvi direttamente qui da Roma su cosa sta succedendo nella Chiesa, ma soprattutto aiutarvi a non perdere la fede, ma anzi a irrobustirla. Vogliamo che nonostante tutto il vostro amore per Santa Romana Chiesa aumente sempre di più. Buongiorno, mio nome è Giulio Loredo, benvenuti nel canale Visto da Roma. Se non sei ancora iscritto al canale ti invito a farlo. Ti invito anche a condividere questo video con i tuoi amici. Resta aggiornato direttamente qui da Roma su cosa sta succedendo nella Chiesa. Il faticante e lungo viaggio del Papa in diversi paesi asiatici trascorreva, come avevo commentato nell'ultimo programma, nella relativa indifferenza dell'opinione pubblica mondiale, che ormai caratterizza questi eventi. Qualcuno, l'ho commentato settimana scorsa, aveva anche detto che era una formula, cioè questa dei viaggi papali, era una formula stanca e logora. L'eccezione più rilevante in questo viaggio è stata, e senz'altro, la maggioranza cattolica del Timor-Est, a corsa in grande numero per acclamare il Papa. I cattolici est-timoresi sono il frutto dell'eroico sforzo dei misionari portoghesi che, tra pericoli e privazione di ogni genere, erano andati lì secoli fa a predicare la fede in Gesù Cristo come unica strada per la salvezza eterna. Gli est-timoresi hanno creduto, sono stati battezzati e hanno custodito per innumerevoli generazioni la santa fede cattolica non di rado al prezzo del versamento del proprio sangue, come racconta Antonio Soci nel suo libro I nuovi perseguitati. Che comprensibile commozione avranno provato i timoresi dell'Est nel vedere che il vicario di Cristo veniva a incontrarli. Eppure, poco dopo la sua visita a Timor-Est, proprio alla fine del viaggio, Francesco ha pronunciato parole che hanno sconvolto come un terremoto non solo gli est-timoresi, ma anche i cattolici di tutto il mondo. Ecco le parole del Papa, dette a braccio, in un incontro con ragazzi a Singapura il giorno prima del suo rientro a Roma. E cito, fra virgolette, sono le parole tratte direttamente dal video. Dice Francesco Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani è la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante perché se voi incominciate a litigare la mia religione è più importante della tua, la mia è quella vera, la tua non è vera, dove porta tutto questo? Dove? Qualcuno risponda. Dove? Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, faccio un paragone, come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare a Dio. Ma Dio è Dio per tutti. E poiché Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. E' vero questo? C'è un solo Dio e noi, le nostre religioni sono lingue, cammini per arrivare a Dio. Qualcuno sarà Sikh, qualcuno, scusate, qualcuno musulmano, qualcuno Hindu, qualcuno cristiano, ma tutti sono diversi cammini. Avete capito? E chiudo, virgolette. Alcuni hanno cercato di minimizzare queste parole dicendo che era una risposta a braccio, fatta a giovanissimi che non capiscono un linguaggio più profondo, più sfumato, che non era l'intenzione del Papa dire che una religione vale l'altra per salvarci, eccetera, eccetera, eccetera. Noi qui non vogliamo giudicare le intenzioni. Constato solo il fatto che, ancora una volta, Francesco ha suscitato una gran controversia, come era già accaduto con la dichiarazione, questa molto più formale, di Abu Dhabi qualche anno fa, che afferma che tutte le religioni, virgolette, sono volute da Dio, qualcosa che si collocava già sulla linea di queste parole che ha pronunciato settimana scorsa a Singapore. Lo stupore mondiale si spiega. Si spiega pure che la versione ufficiale in inglese abbia voluto ritoccare queste parole. Sembra che queste parole di Francesco sono problematiche anche per il Dipartimento delle Comunicazioni del Vaticano. Ma noi siamo cattolici, quindi quando veniamo affrontati da una situazione, da un fatto come questo, la nostra reazione diretta, naturale, dovrebbe essere. Qual è la dottrina cattolica su questo punto? Lo dico subito, evocare la dottrina con rispetto e quando necessario non implica nel peccato di dottrina per escalare pietre contro, come dice un'ambigua formula che sarà utilizzata nella liturgia penitenziale che ci sarà a San Pietro il 2 ottobre. Voi tutti avete letto ci sarà una liturgia penitenziale nella quale Francesco chiederà per tutta una serie di peccati, uno dei quali è il peccato di dottrina usata come pietra da escalare contro. Ora, in quella formula si vede effettivamente un giudizio alle intenzioni, cosa vietata dalla morale. chi può decidere se una persona usa la dottrina per escalare pietre contro e non per raggiungere la verità? Allora, l'essere sospettati di essere lanciatori di pietre non è un modo di inibire a priori l'uso della dottrina nelle questioni controverse? non è un tentativo di evitare a priori che noi ci possiamo richiamare alla dottrina dottrina tradizionale della Chiesa cioè al Magistero? Non possiamo ammetterlo affatto sarebbe un metodo illecito e totalitario. Per questo mi permetto di citare un recente documento del Magistero della Chiesa che riguarda da vicino le dichiarazioni di Singapore. Nel contesto del dialogo interreligioso soprattutto dopo il Concilio Vaticano II davanti alla marea montante di scuole neomodernista che in modo più o meno esplicito dicevano in ogni sede e occasione che per salvarsi una religione vale l'altra La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò nell'anno 2000 la dichiarazione Dominus Iesus a firma dell'allora Prefecto il Cardenale Joseph Ratzinger e con l'esplicita e pubblica acquiescenza del Papa Giovanni Paolo II quindi un documento ufficiale del Magistero. Il documento esordiva spiegando la sua ragione d'essere io cito fra virgolette Il perenne annuncio missionario della Chiesa viene oggi messo in pericolo da teorie di tipo relativistico che intendono giustificare il pluralismo religioso non solo de facto ma anche de jure e continua il documento Dominus Iesus solo la rivelazione di Gesù Cristo immette nella nostra storia una verità universale e ultima ripeto solo la rivelazione di Gesù Cristo immette nella nostra storia cioè ci rivela una verità una verità universale e ultima cioè non ce n'è un'altra continua il documento Dominus Iesus Perciò la Chiesa è per sua natura missionaria essa non può non proclamare il Vangelo cioè la pienezza della verità che Dio ci ha fatto conoscere intorno a sé stesso chiudo virgolette Infatti se una religione vale l'altra non si giustificherebbe la natura missionaria della Chiesa come del resto l'hanno detto con insistenza tanti teologi della liberazione e teologi di ogni salsa progressista La conseguenza logica porterebbe a concludere che la sangue dei martiri versati nei grandi sforzi missionari della Chiesa sarebbe un sangue sprecato e inutile cosa direbbero delle parole di Francesco i martiri gesuiti del passato che hanno versato il proprio sangue per diffondere l'unica verità dell'unica Chiesa E poi Cristo salva come Buddha Cristo salva come Mahometto come salvavano gli idoli aztechi a cui veniva offerto il cuore ancora palpitante delle vittime a loro sacrificate assolutamente no La dottrina cattolica ci ricorda la lapidaria sentenza degli atti degli apostoli quando riproduce le parole del primo vicario di Cristo cioè San Pietro e dice in nessun altro questo è San Pietro in nessun altro c'è salvezza non vi è infatto altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati ribadito poi da San Paolo nella sua lettera la prima lettera a Timoteo e dice San Paolo uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini l'uomo Gesù Cristo chiudo virgolette la prima lettera a Timoteo di San Paolo e concludeva quindi la Dominus Iesus la dichiarazione Dominus Iesus della congregazione per la dottrina della fede a firma del carnale Ratzinger con la pubblica e formale approvazione di Papa Giovanni Paolo II virgolette perciò in connessione con l'unicità e l'universalità della mediazione salvifica di Gesù Cristo deve essere fermamente creduta come verità di fede cattolica cioè come verità dogmatica l'unicità della Chiesa da lui fondata così come c'è un solo Cristo esiste un solo suo corpo una sola sua esposa una sola Chiesa cattolica e apostolica più chiaro di così e questo carissimi ascoltatori carissimi amici non è un documento medievale anzi anche se fosse medievale trattandosi di dottrina di fede cattolica cioè dogmatica la dottrina non cambia ma stiamo parlando di un documento di ieri dell'anno 2000 il primo mandato di Gesù alla sua Chiesa è perentorio andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato uno dei Vangeli poi aggiunge a chi crederà sarà salvo chi non crederà si condannerà quindi la missione di convertire è il primo compito di Pietro e degli apostoli cioè della Chiesa con la chiarezza indiscutibile della verità cattolica già il syllabus degli errori moderni del beato Pio IX condannava sotto la voce di indifferentismo religioso le seguenti proposizioni eretiche una è libero ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che sulle scorta del lume della ragione avrà reputato essere vera quindi questa è una proposizione condannata poi un'altra gli uomini nell'esercizio di qualsivoglia religione possono trovare la via dell'eterna salvezza e conseguire l'eterna salvezza anche questa è una proposizione condannata nel syllabus davanti a tanta chiarezza autorevolmente insegnata da due pontefici che possiamo aggiungere noi? bescovi, teologi, studiosi laici si interrogano perplessi sulla portata delle parole di Francesco a Singapore sulla sua reale intenzione sulle conseguenze che ha per la fede stessa dei credenti dare una panoramica di queste opinioni in questo breve spazio di tempo è chiaramente impossibile concludo condividendo con voi le parole particolarmente felici del teologo spagnolo Bruno Moreno virgolette solo un Papa con fede umilerà il suo giudizio e lo allinerà alla fede e alla morale cattolica anche se ha l'autorità materiale per fare ciò che ritiene sia meglio per la Chiesa solo un Vescovo con fede avrà il coraggio di dire a un Papa che non può scavalcare la fede e la morale come fece San Paolo con San Pietro solo un sacerdote o un religioso con fede avrà il coraggio di fare lo stesso con il suo Vescovo e solo un fedele uomo di fede sarà in grado di resistere nel momento della prova senza abbandonare Cristo e la sua Chiesa anche se è l'ora del Getsemani e non del Tavor chiudo virgolette questa ultima frase soprattutto vorrei ripeterla perché riflette perfettamente quello che io vorrei trasmettere sia solo un uomo di fede sarà in grado di resistere nel momento della prova cioè adesso, oggi senza abbandonare Cristo e senza abbandonare la sua Chiesa anche se è l'ora del Getsemani e non del Tavor Cari amici preghiamo Dio perché la sua vera voce si faccia sentire in bocca ai padri e partecipanti del prossimo Sinodo che si aprirà fra due settimane qui a Roma che sappiano proporre con coraggio e fedeltà l'insegnamento tradizionale della Chiesa che non si pieghino alle mode del mondo moderno se volete partecipare alla crociata di preghiere che abbiamo indetto in modo interamente gratuito cliccate sul link indicato sotto questo video per tutti i partecipanti sarà offerta una Santa Messa celebrata a Roma Cari amici non dimenticare poi di mettere un like su questo video e di condividerlo con i vostri amici aiutatemi vi prego a far crescere questo canale affinché un numero sempre maggiore di persone possa essere puntualmente informata su cosa sta succedendo nella nostra Chiesa io vi do appuntamento sempre qui nel canale visto da Roma settimana prossima arrivederci arrivederci ciao a tutti Grazie a tutti.